D'Ambrosio. Ok, altri? La votazione è chiusa. Presenti 426, votanti 291, astenuti 35, maggioranza 196, farò i 390, contrario 1, la Camera approva. Articolo 44, se nessuno chiede di intervenire, lo metto ai voti. La votazione è aperta. Votiamo l'articolo 44. Chi non riesce a votare? Coppola, Migliore, Garavini, Lomonte, Zoggia. Altri? La votazione è chiusa. Presenti 427, votanti 303, astenuti 124, maggioranza 152, farò i 302, contrario 1, la Camera approva. Siamo all'articolo 45. Qualcuno chiede di intervenire? No. La votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Carrozza. Carrozza. Mazzoli. Ok. Altri? Chi non vota? Chi sta salendo? Alli. Ok. La votazione è chiusa. Presenti 432, votanti 394, astenuti 39, maggioranza 198, fuori 394, contare nessuno, la Camera approva. Siamo all'articolo 47. Se nessuno chiede di intervenire, lo pongo in votazione. La votazione è aperta. Frato Ianni. Ci siamo? Nicoletti. Nicoletti. Bacca. Ok. La votazione è chiusa. Presenti 423, votanti 387, astenuti 36, maggioranza 194, fuori 387, contare nessuno, la Camera approva. Siamo all'articolo 49. Se nessuno chiede di intervenire, lo metto ai voti. La votazione è aperta. Onoregata, se lei rimane al posto, noi andiamo più veloci. Bene. Lomonte. Minucci.